sulle me la radio che è la mia canzone siente l'acqua che va sullendo dai me l'alcol che quita il dolore vamo a puntare la luna e il sol sulle me la radio carpe diema a tutti ragazzi per l'unico e sulle mie video oggi siamo qui stesi su questa poltrona che vi faccio vedere com'è è una poltrona che prima poltrona normale cioè prima è così poi qui stiamo a vedere aspettate mi sono pure fatta male per farmi vedere quel qua ci sono un tappo ma bella che è strana è molto bella ho pagato anche i soldi ieri infatti vi sono portata un po' mi sono portata ieri mi sono portata ieri io mi prenderò intanto vi racconto un po' che cosa farò oggi che penso che farò un altro vlog perchè questo è il primo e dopo farò il secondo che uscirò a voi verso le sette perchè allora vi spiego ora mio padre è da comprarmi il cavalletto se lo trova mi va a prendere il cavalletto quello per fare diciamo i video dove potrete far vedere tutto il vostro per esempio non lo so volete fare le creazioni in pisla basta che mettete il cavalletto un po' scorretto stare stessa però mi siedo non mi capite vedete potete comprare un cavalletto che voi potete fare il video mentre fate le creazioni in pisla per esempio mettete questo cavalletto lo spostate un poco riprendete solamente la base del pisla diciamo la base per fare pisla quindi mio padre me lo è andato a comprare me lo sta andando a comprare e quindi poi dopo ovviamente con questo cavalletto andrò a casa di mia zia e mangerò poi vi farò vedere alcune clip vi farò non metterò la sigla perchè sul mio cellulare diciamo ho scritto questa app che si chiama kit games game studios e che praticamente puoi fare il massimo tre clip perchè sennò tu devi comprare la modalità in cui puoi mettere clip illimitate però ho visto che questo è gratis te ne mette solo tre perchè poi ovviamente dice che il video dura troppo tempo farò tre clip senza la senza diciamo la sigla la prima sarà l'intro ovvero che lo prendiamo a tutti poi la sigla e farò vedere il mio cugino con il braccio ingessato e quello la che mi ha rotto la cioccolata e vedete il video precedente che vi lascio giù in descrizione cliccatelo vedete prima questo e poi andate in consulta video e comunque poi vi farò conoscere il mio cugino vi farò vedere i miei zivi i miei genitori e il mio fratello no il mio fratello non viene e i miei genitori poi poi no la seconda clip vi farò vedere il primo e poi parlerò mangerò e poi parlerò un po' con voi parlerò con il mio cugino faccio vedere che cosa faccio quando sono con lui e poi la terza clip sarà formata da io che saluto i miei zii e che vado in macchina e poi la auto ovvero bella di vederci ciao bella gente ciao bella ciao bella gente ciao bella gente